Il primo organo che si vede è il cuore, non è il cervello. Io non me l'aspettavo. Forse è una cosa che ci dimentichiamo nel corso della vita. Ma questo ha l'ecografia al terzo mese. Al quinto mese, quella che si chiama la morfologica, la poesia è già finita. L'ecografista si muove su un'immagine che tu non capisci e dice E il cervelletto? Vediamo se c'è. Sì, c'è il cervelletto. E il femore? Vediamo se è lungo giusto. Sì, è lungo giusto. E io mi dico, come il cervelletto? Ma perché non dovrebbe esserci il cervelletto? E poi a cosa serve se non ci fosse? E il femore è quanto deve essere lungo. E lui va avanti, ormai è molto più avanti nell'elenco degli organi. Ecco, si nasce così, misurati, calibrati, verificati rispetto a dei parametri standard attesi. Si nasce già con un voto, cioè l'indice di Apgar alla nascita. È una sintesi di parametri di salute che in qualche modo dice, in decimi come i voti a scuola, quante sanno tuo figlio dal minuto zero. E così, questo è solo il trailer, le ecografie che fai sono solo il trailer di un film che farai, che vedrai dopo. Perché appena nasce devi misurare di quanti grammi cresce ogni settimana. Ne sono 30, 40, 50, non di più. E tuo figlio non sta fermo e misuralo tu su una bilancio. Un bambino che si muove e se sono 40, 50 è difficile perché oscilla e se sono di meno ti viene il panico. Perché forse non mangia abbastanza, non hai il latte che serve. E poi deve crescere di tot centimetri. E c'è una curva che vedi ogni volta che vai dal pediatra, è la curva di crescita della popolazione media. E tuo figlio è lì che balla sopra, sotto, durante. E se è sopra c'è l'orgoglio di papà e di mamma, mio figlio è sopra la media. E se sotto no, taci, c'è un po' più la vergogna, finché a un certo punto può darsi che scivoli al decimo percentile. Allora lì c'è il panico. C'è il panico del fatto che forse devi fare le cure ormonali, forse non sta crescendo come dovrebbe. Forse qualcosa non va, ma il fatto è che tu, tuo figlio, non lo guardi, lo controlli, che è molto diverso. Allora, con questa ansia da genitore addosso, fai tutto il possibile. Allora giostrine, palestrine, stimoli di ogni tipo, come se la natura non bastasse. Come se non potesse fare il suo corso, come se la realtà non fosse abbastanza curiosa da osservare. E vai a inseguire, a cercare le cose giuste. Quindi leggi sulle scatole, chiedi ai negozianti, la cosa giusta per un bambino di tre anni, anzi una bambina di tre anni, il libro giusto, la scatola giusta. Ma tu non è che stai guardando lui o lei, stai guardando la scatola e lo chiedi al negoziante che cosa prendere. Perché c'è già il mercato addosso, perché il mercato ti assedia. Il mercato è entrato in scena il primo giorno, almeno, nella nostra esperienza. Perché quando è nato Pietro, accanto c'era già il pacco. La cremina, la pomatina, la spazzolina. Pietro era nato, era già un nuovo consumatore. E poi non ti molla il mercato, lo sanno bene gli psicologi del marketing, a due linguaggi. Uno è quello che usa quei bambini, quei ragazzi. Ed è un linguaggio che tu non capisci completamente, perché è fatto di colori accesi, di forme studiate, ovviamente. E poi di personaggi, che sono quelli dei cartoni, dei figli, che a un certo punto sono dappertutto, sono sui tovaglioli, nei piatti, nei compleanni, stampati sulle torte, sugli zainetti, quaderni, diari, sono ovunque. Tanto che trovarli senza un problema, ti sembra che tuo figlio li vuole, ma non li vuole lui. Lui in quel momento non sta desiderando, neanche sta facendo i capricci, sta eseguendo un compito, perché è il mercato che desidera per lui. Lui sta eseguendo quel compito. E tu intanto sei impegnato in altro, perché il messaggio per te è diverso, il codice è diverso. Il tuo codice è quello stampato sulle istruzioni delle confezioni, dove c'è scritto questa cosa è adatta per, qui dentro ci sono le vitamine, questo fa bene per questo e per quell'altro. Perché gli psicologi del marketing lo sanno, che tu devi sentirti un bravo genitore. Ed è questo il messaggio che ti è rivolto. In questo assedio normativo la scuola ci mette del suo. Quando Pietro è entrato alla scuola materna eravamo un po' in ritardo rispetto all'inserimento. Qualche giorno dopo arriviamo e il gruppo è già formato, i bambini stanno cantando con l'insegnante in coro una canzone, col libro delle canzoni dell'insegnante, allora Pietro per inserirsi dice, ma posso cantare la canzone della montagna? E canta la sua canzone, pensa che questa sia la chiave. E si inventa questa canzone. L'insegnante guarda il quaderno e dice, no, scusa, non c'è la canzone della montagna, non la possiamo cantare. Nella materna ci sono appesi tutte quelle sagome già fatte, che tu devi colorare dentro, guai uscire fuori, usa i colori giusti, se usi i colori scuri, il viola e il nero, l'insegnante e poi ti dice, c'è qualcosa che non va. Margherita a sette anni ci chiede a colazione, ma quanti sono 60 secondi? E noi glielo facciamo vedere, Margherita non ha l'orologio, un bambino di sette anni non deve avere l'orologio. Ma cosa succedeva? Gli diamo, ma perché Margherita ha bisogno di saperlo? E domani c'è l'invalsi, che va in scena in seconda elementare, che è un testo a tempo. E da quel momento per Margherita il tempo va al contrario, anziché a scorrere come è nella natura, come è nella sua vita. Va al contrario, come in fabbrica, al lavoro, come qui. E da lì le prende un'ansia tremenda. Una sua compagna di classe viene dalla Sri Lanka e allora si assenta qualche giorno per andare nel paese d'origine della famiglia. Quando torna l'insegnante chiede, ma scusa, dove sei stata questi giorni? E dice, sono stati in Sri Lanka, il paese dei miei genitori. E l'insegnante le dice, ah bene, adesso metti e ti impari coi compiti. Metti e ti impari coi compiti. Ma quell'insegnante l'ha vista quella bambina? O ha sovrascritto su di lei l'allieva che doveva essere? Quel giorno la lezione la doveva tenere quella bambina. È questo che succede. Noi in realtà i bambini, i ragazzi, non li vediamo. Cioè li guardiamo non per quello che sono, che fanno, ma per quello che ancora non sono, non fanno, non hanno. Cioè sostanzialmente misuriamo la loro distanza fra la nostra aspettativa e il nostro standard, la nostra misura, e quello che sono ma che non ci basta. E la loro vita va avanti fino a 16, 20 anni, quando incontro i ragazzi che incontro, con cui faccio ricerca, che intervisto, con cui facciamo insieme le cose. E loro mi dicono, ma tutti questi test, queste verifiche, queste prove, questi casting, a parte in Italia in vista di cosa? Qual era il premio? Qual era il traguardo di questa rincorsa? E poi ti dicono, ma santi, io non so in realtà cosa mi piace. Ho sempre fatto quello che dovevo. E poi non mi sento abbastanza, forse non sono adeguata, forse non ce la farò, forse non riuscirò, non lo so. Non so cosa sceglierò, paura del futuro. Ma com'è possibile, nell'età della potenza, dell'eros, del desiderio, avere paura della realtà e del futuro? Ma come abbiamo potuto portare una generazione a quel punto, anziché convocarla nella realtà? L'abbiamo tenuta in esilio, in cattività, anziché dare i compiti di realtà e responsabilità. Questo dico, sostanzialmente è una follia che non possiamo più permetterci. Per il semplice motivo che ci stiamo dimenticando che noi, quando emigravamo, emigravamo ragazzi e un'intera famiglia scommetteva sui ragazzi che partivano per ritrovare l'economia e la felicità. Gli adulti scommettevano sui ragazzi. Ci stiamo dimenticando che il Novecento è stato fatto di idee e di scoperte, di giovani che avevano fra i 20 e i 30 anni, fra i 20 e i 30 anni. Einstein aveva 26 anni quando ha scritto l'articolo famoso sulla relatività. Quindi non era quel vecchio bianco coi baffoni. No, era un giovane di 26 anni. Ci stiamo dimenticando che le grandi aziende degli anni 2000 sono state fatte da ragazzi che avevano fra i 18 e i 25 anni. Ora, questo non è il migliore dei mondi possibili. Forse ce lo dobbiamo dire. E proprio perché non è il migliore dei mondi possibili, e lo dobbiamo raccontare così, dobbiamo provare a trovare dei varchi per far entrare i ragazzi. Dobbiamo assumerci il compito del suo miglioramento. È da lì che si entra. Perché se il mondo è saturo, museificato, no? Non entri, non c'è posto per te. Ed è quello che sentono i ragazzi, che non si sentono utili perché non c'è posto. Non sono previsti. È tutto già occupato. Un po' come questo teatro. E allora da dove entri, se tutto è già predisposto e tutto già pronto? Non solo. La realtà è cambiata tantissimo in questi anni. E la mia base esperienziale non conta nulla rispetto a quella che ha un ragazzo e avrà un ragazzo. Io non sono la misura dei miei figli. E gli adulti presenti non sono la misura dei ragazzi presenti. Parlo per me. Io ho fatto un liceo che è cambiato completamente, un'università che è cambiata completamente. Ho fatto l'obiezione di coscienza a servizio militare facendo un servizio civile di 20 mesi. nulla di tutto questo esiste. Ho cercato lavoro con le pagine gialle. Sono andato a guardare società di ricerca, ho mandato sei lettere e ho trovato lavoro. Potrò mai dire questo a un ragazzo? Ho parlato una lingua, ho vissuto in una città, ho fatto un solo mestiere. Anche questo probabilmente non è più la misura, evidentemente, dei ragazzi che ho di fronte. Credo che questa generazione che abbiamo di fronte, molti sono presenti, non debbano essere formati come allievi che devono eseguire dei compiti prescritti perché c'è un manuale che valeva ieri e vale oggi. Devono essere formati come pionieri, formarsi come pionieri completamente diversi. Vuol dire che devi spostare la frontiera della conoscenza, vuol dire che devi studiare e devi anche imparare a disimparare, come diceva Gregory Bateson. Quindi sostanzialmente a ricostruire continuamente le regole. Vuol dire che devi essere formato con domande, non allenato a rispondere come succede a scuola. E queste domande devono essere domande legittime, non illegittime, che sono quelle che ci sono a scuola e all'università, che sono quelle dove chi fa la domanda sa la risposta e chi risponde sa di dover dare la risposta che è nella testa di chi domanda. Se sei allenato così, non ti pensi portatore di alcun sapere, di alcuna scoperta, di alcuna possibilità di ingresso nella realtà, perché tutto è già scritto e già fatto. Un giorno siamo al mare, Pietro ha 10-11 anni, e mi dice «Papà, voglio diventare ricco». Noi non siamo ricchi. E io non so come prenderla, mi viene in mente questo. «Bello, così puoi essere generoso». E lui mi dice «No, non intendevo questo». E allora cerco di riprenderla in un altro modo e dico «Ok, Pietro, allora per diventare ricco devi trovare qualcosa che sia la soluzione a un problema comune, una risposta che risponde in qualche modo a un'esigenza collettiva e quindi forse può avere successo». Lui si guarda attorno e dice «Potremmo rendere potabile quest'acqua, l'acqua del mare». C'eravamo. Questa è la sfida di cui parlo. Cercare di assumersi compiti di realtà, qualcosa che davvero urge da fuori, e provare a cercare soluzioni con i ragazzi. Questo faccio. Gruppi interdisciplinari, dove metto insieme il pensiero divergente dei bambini, l'energia dei ragazzi, la maturità degli adulti. insieme rimmaginiamo quartieri, biblioteche, scuole. Per capire cosa si può fare, spegniamo la luce, rompiamo il ricatto del presente perché il reale è molto più della realtà. Il presente non è il repertorio del possibile e immaginiamo cos'altro si può fare in un luogo. In un lavoro che ho appena fatto, ho chiesto ai ragazzi addirittura questo. Sentite, abbiamo i negozianti, i residenti. A voi chiedo di fare gli alberi. Fate i portavoce della natura. Perché ci serve capire qualunque cosa faremo in questo quartiere ci serve avere l'orizzonte lungo della natura e siete gli unici che possono incarnare la natura e loro lo fanno e sono contentissimi. Di questo sto parlando. Noi in realtà questa cosa, come dire, di mettersi insieme, di collaborare insieme, la facciamo in Italia, ma la facciamo una sola volta quando ci sono le grandi emergenze, quando ci sono i terremoti, le alluvioni, quando avvengono quelle cose siamo uno accanto all'altro e non ci chiediamo chi è quello lì. Non è che lo misuriamo rispetto a quello. Abbiamo un compito di realtà urgente e lo facciamo assieme e funziona. E in quella circostanza spesso guardiamo i ragazzi e li chiamiamo il giorno dopo gli angeli del fango. Ci accorgiamo di loro solo in quella circostanza e loro non sono molto contenti. E hanno ragione. Ecco di questo parlo, di compiti di realtà. In fondo è fare quello che Anna Arendt chiamava politica. La politica non è occuparci gli uni degli altri, ma occuparci insieme del mondo ogni giorno. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.